no, vuol provare questa? ciapa questa? puoi fare in seconda? sì, in seconda per me si fa male per me si fa male con quella moto vita che cancello, che cancello da una m***a e un mese questi no, 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 no! Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. 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 Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, è un cavallo imbizzarrito.